Ci sono alcune volte che non lo so nemmeno io, è proprio una cosa che parte proprio da dentro, dal mio stato d'animo in quel momento. Altre volte invece è proprio una ricerca anche sugli altri artisti che ci sono e quindi è un po' una ricerca. Però la maggior parte delle volte è una cosa molto intima diciamo, che quindi fa proprio parte di me.